Allora ragazzi, sono le 15.28, siamo in arrivo a Napoli, centrale, fa veramente caldo, tolto il cappellino perché sarei ridicola, tra l'altro poi vi racconto, volevo prendere una cosetta al distributore che sembrava semi-bio e mi ha acciullato 6,40 euro, ho fatto il bonifico, poi vi racconto, IVS Italia, il nome del distributore che siamo arrivati, credo sia l'Apoli centrale questo, è la seconda volta che vengono a Napoli, la gente mi guarda molto, molto stranamente, la mattina delle sopracciglia, la male che me ne sono accorta, l'ho appena comprata, questa non è monnezza mia, ma la buttiamo? Il mio problema adesso è che non ho fame ma sono in ipoglicemia perché non mangio niente da ieri sera e appunto poi vi racconto quello che è successo con il distributore. bello che ho anche preparato lo snack, la borsettina con le pezzettine di parmigiano, sta ripartendo così arriviamo, il mio problema è tesaurizzare la batteria, la ricaricata tutto il tempo, però... grazie 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 è stata una cosa proprio improvvisa ragazzi, altrimenti mi sarebbe organizzata a parte che non ho neanche tempo perché devo andare e tornare fa un po' sorridere dire mi sarei organizzata per prendere un caffè, poi quando stasera vi dirò tutta la cosa al completo che non c'entra niente, cioè non sto andando per questioni correlate a youtube, però non sto spiegando ancora il perché perché comunque tutta la situazione dopo vedrete ma che paranoia ti fai eppure è così ma io mi piacerebbe visitare Napoli con calma, questa è la seconda volta che ci vengo ma l'altra volta ci rimasi un giorno soltanto ricordo che ero incazzata come una biscia, ma un sacco di anni fa c'era Silvia, c'era mia zia quindi parliamo forse parliamo del 2000 forse del 2005 non ricordo siamo in arrivo siamo in arrivo a Napoli centrale perfetto all'interno il momento fumare, mangiare qualcosa per l'ipoglicemia inappetenze l'ipoglicemia non mi hanno tanto d'accordo ho passato la... il maglione è pulito, ho passato pure la spazzola piena di pedi quindici e quarenta sette. Passengeri potranno trovare il treno, freccia rosa, 96, 46, 2, 1 volta a nuova. Stiamo chiusi dentro. Ma pure un'altra volta quando sono scesa, hanno un sacco di porte a non bloccare. Ma si è bloccato come se fosse... se non gli ha dato il segnale di termine corsa. Ah no, è chiuso. Adoro tutte le cose che non funzionano in Italia, da nord a sud. Dovunque ragazzi, non è questione di... No, però mi sono garantito che l'ho vissuto dalle altre piramide dal Manzanacarena in Italia. Ed è tutto non funzionato. Grazie. Napoli centrale. Ok, ragazzi. Ho chiamato la persona che devo incontrare. Oltre all'inappetenza, fortunatamente, si è ridotta un sacco la voglia di fumare sigarette. Sto fumando pochissimo. Anche perché, ovviamente, è da super intelligente fumare post gastroscopia. Che pur con sondino pediatrico, vi assicuro, non lascia la sensazione simpatica. C'è matto, faccio una pazzia, mi comprerebbe il secco. Adesso faccio sbiarda. Ho l'appuntamento qui. Già scudo di granite, ovviamente, non è proprio il periodo. Ma non fa per niente freddo, ragazzi. Fa un po' più fresco rispetto a Roma. Però... Oddio, visto che allora anche io sia proprio in gran salute. Non vorrei che il detto vedi Napoli e poi muori. Nel mio caso si concretizzasse. Vabbè, è la seconda volta che ci vengo. Si prega di non sostare. Lo sapevano, l'hanno scritto per me. Devo anche aspettare per provvedere all'ipoglicemia perché... a meno che non prenda una robettina al volo lì, ma... cioè, mi sembra che abbia tutta roba fritta, unta. Vediamola. Ho detto, la persona che aspetto che in tangenziale ci... avrebbe impiegato... mi nominano posti che io non ho mai senso nominare. Oddio, cado. Scusate. 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 Ho degli sbarioni. Guarda che negozio! che bello 110 euro io ho delle rolle clessidre ragazzi adoro le clessidre ragazzi mi sono fatta sto regalino la clessidra stavo per svenire nel negozio mi sto anche guardando male perché l'ho ripresa meglio che io non faccia più niente ansia ansia e ipoglicemia però prima devo fare questa cosa che è importantissima voi capirete perché ciao amore mio amore buonissimo di una bontà e di tutto un altro dolcissimo mamma mia amore eccezionale guarda io la sono portata in braccio non poteva andare meglio eh sì ma ha detto Patrizia allora salutami sicuramente siete andati bene tutti sì siamo andati bene io sono già piena sempre i miei grazie posso? grazie io scappo ok grazie mille siete meravigliosi salutami Patrizia piccola piccola devo portare due sfogliatelle rich al tutor sono un po' disorientata ok mi dà anche due da portare via due sfogliatelle riche questa è qui o questa è qui giù eeeh ah io non so in pratica questa è tenata sì quante? quante? due cioccolato una crema chantilly o una panna? crema chantilly o una panna ok ragazzi sono già di ritorno questa è la cagnolina che hanno adottato i miei genitori e dopo vi dirò da dove viene ma potete già immaginarlo Roma Termini ho già fatto il biglietto Roma Termini 16.30 quale sarà? 9 446 15 binario 15 roba toccate la fruta ragazzi oplà oplà allora la mamma è stata previdente a portarla a bustina non si dimentica il piattino la ciotolina quindi cosa ho fatto? ho girato la busta con la dosa alimentare andrò a mettere lì piccola vuoi amore? vuoi? ha famissima buono che buono adesso puliamo tutto puliamo tutto che buono che buono e allora